Ciao a tutti, oggi vi porterò a una giornata in ritiro con me. Dai, andiamo a colazione. Oggi prendo le uove, un po' di yogurt, anzi, è un pancake. Adesso è arrivato il momento di rifare il primo allenamento. I want you to be in all the video. You wanted to make me became famous? Arrivato al campo, adesso tocco a cambiare e a preparare per l'allenamento. Prendevo il panno. Tante pesciche, devo sistemare un po', è malissimo. Però, parte dello sport. La scintura è fatta, adesso vado a prendere le scarpe e andiamo in campo. 9.40, Carlo. 9.41, Carlo. La scintura è stata alta, adesso vado a prendere i pervi. La scintura è stata alta, ma la sera è alta, ma la st acecola è tutta una zona. La scintura è stata lo scintura. Non veramente, anche selezioniamo i perviare un po' di Canada. durissimo, l'allenamento sotto la pioggia e tanta 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 corsa buon appetito! ora tempo di caffè, poi nanna, però di caffè soggiornata ciao, buonanotte andiamo ad allenare, secondo allenamento finito l'allenamento, adesso faccio la vasca fredda, poi torniamo in hotel Cesena mi mangio un riso bianco con dei sperini, patate e pagiolini e adesso andiamo a giocare a ping pong, venite con me è arrivata l'ora di dormire, riposo importante dopo una giornata tosta, grazie, grazie a tutti, ciao